Sei indeciso su quale scuola scegliere il prossimo anno? Oppure vuoi cambiare scuola ma non sai quale frequentare? Se hai risposto sì ad almeno una di queste domande, se è capitato nel video giusto. Ciao a tutti, sono Nadia Ciarradi, frequento la classe terza FM e oggi parleremo, dico parleremo perché non sono da sola, dunque rimani fino alla fine del video per scoprire gli ospiti speciali di questo video. E parleremo della mia esperienza, del mio istituto, delle materie che si studiano e degli sbocchi lavorativi che questa scuola ti può permettere. La PES appunto frequento l'istituto tecnico Pasquale Saraceno di Morvegno e attualmente sto frequentando la classe terza AFM. AFM è l'acronimo di amministrazione, finanza e marketing. Come in tutti gli istituti anche questo indirizzo è suddiviso in biennio e triennio. Biennio e triennio però hanno delle differenze rispetto ad altri istituti. Analizziamole assieme. Nel biennio dunque in prima e seconda superiore si studieranno diverse materie comuni a tutti gli altri istituti che vengono appunto studiate perché sono venute materie con nozioni base che ognuno di noi dovrebbe conoscere. Si tratta di materie che poi nel triennio verranno perse. Al momento dell'iscrizione alla scuola vi verrà chiesto di indicare quale lingua oltre all'inglese vorrete studiare. L'opzione è fra lingua francese e lingua tedesca. Ricordatevi di non sentirvi obbligati a scegliere la lingua comunitaria che avete studiato alle scuole medie proprio perché si comincerà dallo studio base di ciascuna delle due lingue. Quindi ognuno di voi potrà scegliere se studiare assieme all'inglese, incese oppure tedesco. Quali sono le materie che però caratterizzano questo istituto? Sicuramente economia aziendale, diritto e informatica. Nel corso del biennio le materie appena citate verranno studiate per due ore alla settimana. Questo quadro orario chiaramente cambierà nel triennio. Tutto Saraceno vi dà la possibilità di poter scegliere fra due possibili opzioni appena concluso il biennio, ovvero AFM, amministrazione, finanza e marketing, e SIA, sistemi informativi aziendali. Che differenza c'è però fra AFM e SIA? AFM è un indirizzo incentrato principalmente sullo studio di materie giuridiche ed economiche, quindi diritto, economia politica e economia aziendale, affiancate però da altre materie, quali informatica. Questa materia verrà studiata per il terzo e quarto anno, mentre al quinto anno, nel corso chiaramente sempre di AFM, verrà persa. Il tutto affiancato dalla lingua inglese e dalla lingua francese o dalla lingua tedesca. SIA invece è un indirizzo incentrato principalmente nell'ambito della gestione del sistema informatico aziendale e questa attività, diciamo così, è molto 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 importante per migliorare l'efficienza dell'azienda attraverso nuove procedure riguardo per esempio al sistema di archiviazione, alla sicurezza e via dicendo. Quali sono le principali differenze fra il corso di AFM e il corso di SIA? La principale differenza sta proprio nel quadro dell'orario. Come potrete ben notare ci sono materie che vengono studiate per un quantitativo di ore maggiore nel corso di AFM oppure ancora nel corso di SIA. È il caso per esempio dell'economia aziendale. Per quanto riguarda il corso di AFM, al terzo anno verranno studiate sei ore di economia aziendale, al quarto anno sette ore ed infine al quinto anno ben otto ore. Per chi non lo sapesse appunto l'economia aziendale, come dice l'acronimo del corso, è divisa in tre categorie amministrazione, finanza e marketing. Però non spaventatevi perché analizzeremo in seguito con gli ospiti speciali. Vorrei inoltre ricordarvi che ci sono materie comuni per entrambi gli indirizzi, quali per esempio italiano, storia, matematica, educazione fisica, dunque scienze motorie e inglese. Inoltre nel corso di SIA la lingua comunitaria, quindi tedesco o francese, verrà studiata solo al primo anno del triennio, dunque solo al terzo anno, mentre al quarto e il quinto anno verrà abbandonata. L'indirizzo di diploma più richiesto dalle imprese è quello di amministrazione, finanza e marketing e inoltre sono previsti diversi stage presso banche, aziende del territorio, enti pubblici e studi professionisti, quali per esempio commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro. Alla fine degli studi siamo pronti per immergerci nel mondo del lavoro o comunque nel mondo universitario, di fatto ci sono sbocchi universitari, sia sbocchi universitari che sbocchi lavorativi. Partendo da quelli lavorativi sono lavoro dipendente, imprese private nei settori informatico, industriale, commerciale, bancario, assicurativo, finanziario e legale, manager e assistant manager e assistenza informatica, studi professionali, sindacati, associazioni di categoria, consorsi e cooperative, promotore finanziario, controller, amministratore di condominio, esperto contabile, commercialista e dottore commercialista. Gli sbocchi universitari sono economia aziendale e management, economia e finanza, economia e scienze sociali, economia e gestione delle aziende, giurisprudenza, marketing e comunicazione, scienze politiche, scienze statistiche e statistica gestionale. L'organizzazione è quel ramo dell'economia aziendale che si occupa di amministrare le aziende tramite delle procedure tecniche, come l'organizzazione e la gestione. L'organizzazione vuol dire scegliere tutti i mezzi e le risorse che sono utili al funzionamento dell'azienda, come ad esempio i dipendenti che rappresentano una risorsa umana. L'organizzazione è fondamentale per lavorare con efficacia, ossia il raggiungimento di un obiettivo ed efficienza, ovvero il raggiungimento dell'obiettivo con il minore dispendio di risorse. L'allevanza contabile consiste nel registrare, nel rappresentare le operazioni effettuate dall'azienda e fino a utilizzare il pieno dei conti che abbiamo cominciato ad analizzare a partire proprio da quest'anno. È il momento di presentarvi gli ospiti speciali di questo video, come detto all'inizio del video. Clarissa si occuperà del marketing e Edoardo Verga di finanza. Come detto prima della NIDA, la finanza è il ramo principale dell'economia aziendale, che è la disciplina economica che studia i processi e le scelte di investimento e di finanziamento. Dunque è il ramo dell'economia aziendale che si occupa tra le risorse finanziarie utili all'azienda. La finanza si occupa anche di tutto il mondo del training online, al momento abbiamo analizzato le sessioni di mercato che si svolgono nelle più importanti piazze del mondo, poi abbiamo analizzato anche tutte le categorie con cui si può operare in borsa, ad esempio le criptovalute che possono essere il bitcoin, le materie prime che può essere l'argento o anche il gas naturale, le operazioni su forest che comprendono tutte le coppie valutare, come la più utilizzata euro-dollar, il cambio da euro a dollaro. E ora passo la parola a Clarissa per parlare del marketing. Io vi parlerò appunto del marketing che fra i tre rami dell'economia aziendale è quello che preferisco maggiormente ad oggi e infatti quello che mi appassionato di più proprio perché mi piace il fatto di conoscere come le aziende riescono a distaurare rapporti positivi con il mercato. Infatti il marketing è quella materia che si occupa di creare canali di vendita per i prodotti e per questo è fondamentale, infatti tutte le aziende si occupano di marketing. Per fare tutto ciò bisogna però prendere in considerazione prima di tutto l'esigenza del mercato per poi studiarle e farvi fronte. Ad oggi sta diventando fondamentale anche il digital marketing, ossia una sottocategoria del marketing che si svolge online attraverso internet, diversi canali web e piattaforme e-commerce. Speriamo di essere riuscite ad aiutarvi nella scelta della scuola superiore. A presto, ciao!